Sono Gian Piero Sammuri, ero nato nel 1954, vivo in Tuscany e sono biologista di wild life. Ho lavorato per 30 anni su conservazione di biodiversità, come manager di area protettiva e come ricerca su raptors. Ho anche insegnato di mangiamento di area protettiva a Siena per 5 anni. Da 2000 sono Presidente di Marema Regional Park in Tuscany. Marema Protettiva è uno dei parchi più vecchi italiani e, da sua birth in 1975, ha ottenuto diversi award nazionali e internazionali. tra gli altri, un WWF Golden Panda per il nostro progetto di reintroduzione di osprei. Sono particolarmente orgoglioso di questo successo, perché l'ultimo mese ha portato per un nesting naturale dopo 42 anni di disperanza. Durante la mia lunga esperienza, ho anche lavorato in diversi progetti di cooperazione internazionali in Sud America e in Europa. Da 2009 sono anche Presidente Federparchi, Europarchi italiana, Presidente. Il parchi si unisce la maggior parte delle zone protettive italiane e siamo particolarmente coinvolgiti nella diffusione dell'Europa per il turismo sostenibile. 8 parchi hanno ancora ottenuto il status di membri di un membro e 9 parchi sono applicati per questo. Se sono elezionato nel Consiglio Europarchi, mi lavorerò sulla promozione dell'internazionali progetti per la conservazione della biodiversità e per aumentare i risultati finanziari ai parchi. Grazie!